è tornato che oggi non manca un mercoledì da vent'anni come stai bello ecco i tuoi dolcetti preferiti di qualcosa così ok sputa il rospo avanti dai fregato lui è buco nero l'ho trovato un paio d'anni fa buco nero a questo buco bel nome molto azzeccato guarda le gnocchiaure due mancano tre ore non potrei guardarle subito all'acca l'acca l'acca vuoi sentire il secondo rumore più fastidioso del mondo certo sì è piuttosto fastidioso no non questo perché suonate il campanello così è notte fonda questo bentornati sapevate che charlie sterone ha la mania di cenerentola che cos'è vi chiederete voi pare che sia una cosa abbastanza diffusa a hollywood e consiste nell'essere ossessionati da ordine e pulizia al punto di diventare compulsivi charlie sterone vede nel disordine degli armadi un nemico del suo karma quando mi sdraio a letto non riesco a dormire perché penso mi sa che nell'armadio visto qualcosa che non dovrebbe essere lì ha ammesso la bella attrice australiana charlie se vedessi il mio armadio ti verrebbe una crisi isterica mi sa altro video altra curiosità a presto altra curiosità a presto ovvi vorrei chiusi